Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, canale 99, digitale terrestre, buongiorno anche a chi ci segue in streaming Nettuno TV. Punto TV, sono Francesco Spada, in questo martedì 3 ottobre del 2017, vigilia della festa per Bologna del suo patrono San Petronio, domani in Piazza Maggiore la grande festa, alle 17 la Santa Messa presiduta dall'Arcivescovo di Bologna in San Petronio, diretta televisiva su Nettuno TV, canale 99 e poi la sera il concerto, la festa, lo spettacolo affidato a partire dalle 20.30 al piccolo coro dell'Antoniano e anche in quel caso la diretta televisiva di Nettuno TV, insomma una serata e una giornata da tendere, da passare insieme con grande gioia ancora una volta, siamo all'interno di quelle che sono le celebrazioni finali del congresso eucaristico diocesano, siamo a due giorni con oggi dalla visita del Santo Padre a Bologna, davvero una Bologna ricchissima di appuntamenti, una Bologna che ancora ha però nel cuore e negli occhi la visita di Papa Francesco e poi andremo a leggere sui quotidiani un po' i racconti, i resoconti delle persone e anche delle autorità. Andiamo subito sulle pagine dei quotidiani di Bologna, cominciamo dall'arresto del Carlino, il giudice conferma gli arresti di Pietro non si è ravveduto, l'inchiesta sui concorsi per le cattedre universitarie, il magistrato di Firenze sui domiciliari, molti gravi indizi di colpevolezza, sentiti carinci e tassani e strani ai fatti, vogliamo tornare a dagli studenti. E poi il fatto drammatico avvenuto a Bologna coltellato per un volantino, un giovane di 39 anni preso anche a Badilate durante la consegna di volantini in una casa Acer, l'aggressore fugge ma in serata si è costituito. E poi cooperativi allo specchio sul modello Emilia, dopo le parole del Santo Padre, levorato tanti errori da riconoscere, la Presidente di Lega Copperi Taghedini sapremo evolvere. E poi il prefetto e i quartieri rispuntano le sentinelle, ancora da questa prima pagina dell'arresto del Carlino, e poi scappo dalla città, Jessica, la vita e le capre, San Benedetto, la storia di questa giovane ragazza che trova lavoro e passione, voglia di fare insieme a delle capre, quindi diciamo in una piccola fattoria. Congresso PD, giovedì il confronto, arresto del Carlino tra i tre in Lizza, quindi nessuno ha rinunciato, Critelli, Licciardello e Luca Rizzo, Nervo, questa ancora dalle pagine del resto del Carlino di Bologna. Andiamo sul Corriere di Bologna, eccolo qua, una petizione contro l'avvio posticipato della scuola, la protesta ha già raccolte 400 firme, siamo indignati la regione, nessuna decisione è stata presa. Vecchia e precaria, sede per la materna degli esposti, l'ex lira dei genitori, l'imbarazzo del comune, poi il Papa ha dato dignità al Lab. L'intervista, il bilancio positivissimo del prefetto di Bologna sulla visita del Santo Padre, fiero di questa città, ha detto piante dosi, con i profughi e con gli universitari, in momenti più alti. E poi ancora, comunale la stagione, l'incognita fondi, grandi registi, una tournele a scure però dei tagli, e poi la cura bolognese e l'eredità del Pontefice. Cosa resta ancora da questa prima pagina del quotidiano? Congresso Demme, subito lite, sul confronto a tre, dopo aver respirato alto con la visita del Papa, adesso ci ricaliamo nella quotidianità, ma ci sta, perché alla fine comunque dobbiamo vivere nella realtà, lo ha detto anche il Santo Padre, non stare lassù, ma essere in mezzo alla realtà. Raduno centrista sotto le torri, obiettivo politiche, l'evento sarà a fine mese. E poi non mettere i volantini, e lo accoltella Cirenaica, la vittima è un egiziano, l'aggressore è un giovane italiano, con dei precedenti che si è costituito in serata. Integrativo GD, l'orario di lavoro ora è autonomo, incentivi e premi, ancora da questa prima pagina del quotidiano, andiamo sulle pagine ancora di quelle di Bolognesi, andiamo su Repubblica di Bologna, ecco qui Prodi benedice Francesco, da lui una lezione di futuro, il professore dopo la visita del Santo Padre, parole anche per i non credenti, è davvero il Papa di tutti. Casini applaude la città, anti-immigrati all'attacco, però vabbè, insomma, lasciamoli lì. Mariotti Superstar, ma sarà il suo addio a Bologna, presentata la stagione lirica e sinfonica del teatro comunale. Poi anche Repubblica, Turrini e la Cop, sotto il tiro PD, porta i girevoli a senso unico, dice Turrini. Replica le critiche, la vista del congresso, in vista del congresso dei democratici. Bersani lancia il suo movimento e punge il dibattito DEM, toni alti e livello basso. Scuole aperte il 20 settembre, rivolto online dei genitori, una petizione sul web per raccogliere firme contro la regione, questa ipotesi. E poi ancora botte al fattorino delle pizze per i volantini nella buchetta, in via Scipione dal Ferro, in una struttura Acer. E poi ancora Andrangheta, il boss Femia vuole uscire dalla carcere. Ancora Crowfounding di bellezza per pazienti oncologiche, poi Torrisi e Palassio, Mania, Bravo e Destro si svegli. Questo è ancora il tema lanciato dalle pagine del resto del Cardino di Bologna. Andiamo subito all'interno e prima di arrivare a quella che era notizia e poi legata al Papa andiamo a leggere invece questo tema legato all'allarme e sicurezza. Non voglio volantini, lo prende a Badilate e la coltella. Un egeziano aggredito nel cortile di un palazzo Acer di via Scipione del Ferro, denunciato un residente. La vittima, il 39enne, stava mettendo i deprian di una pizzeria nelle buchette. Futili motivi. Il pregiudicato di 27 anni è sceso da casa con un badile ed un coltello da cucina. Davvero incredibile. Zona Savenale strappa la catenina d'oro inseguito e preso dalla dottoressa. Altre storie di cronaca bolognese. Poi spendono alle slot i grattini vincenti rubati della spaccata squadra mobile. Moldavi arrestati. Poi ci sono ancora altre notizie. Trovati anche manganello e bastone. La polizia vicino al ferito ha sequestrato anche un manganello spagnolo e molla a molla e un bastone usato dalla vittima per difesa. Imbratta le colonne nei guai con vernice spray. Stava imbrattando una colonna di via del Borgo San Pietro. La polizia denuncia un boliviano di 27 anni. E poi rubano l'estintore sull'autobus. Rubato un estintore sull'autobus della linea 27. Lo hanno scaricato in piazza 8 agosto. La polizia denuncia un moldavo di 22 anni e un ucraino di 25. E poi ancora andiamo anche sulle pagine di Repubblica. Sempre da queste pagine. Qui c'è il tema. Repubblica invece subito l'apertura sulle prime pagine su Papa Francesco. Prodi e il lascito del Papa. Un messaggio riformatore anche per i non credenti. Il professore ha seguito l'intera giornata bolognese di Francesco. L'elogio di questa terra. Un invito alla speranza e alla solidarietà. Il coro, il patto per il lavoro e la coesione sociale. Ci ha ricordato che si canta in coro e che si può migliorare. E poi la contrapposizione. Credo che abbia chiuso la stagione di una chiesa spesso in contrapposizione con questa realtà sociale. L'incontro nel nostro breve incontro mi ha fatto sorridere. Mi ha detto ma noi due non ci conosciamo già. E' appunto questo il Santo Padre. Insomma scherzando con Romano Prodi. Lettera di Bolognesi a Francesco sulla strage. Casini città all'altezza. E poi ben nutriti e ben vestiti. Pronti solo a farsi selfie. Il fronte anti-immigranti. L'attacco di Venturi c'era ben altro da visitare. Il PD critiche meschine. Questo è stato Giulio Venturi appunto che ha voluto diciamo sottolineare questo aspetto. Andiamo sulle pagine del Corriere di Bologna. Eccoci qui. Il Papa ha dato dignità a Lab. E' il prefetto Piantedosi che dice con i profughi e con gli universitari i momenti più alti. Secondo Piantedosi. Il prefetto alle otto ore con Bergoglio appunto ha dato dignità ai profughi. Come detto Piantedosi colpito dall'incontro con i migranti e dal suo discorso in San Domenico e all'università. Le tre P di Papa Francesco citate proprio nell'Omelia. Pane, Parola e Poveri e le altre eredità di Papa Francesco. Le indicazioni ai religiosi, le esortazioni ai sacerdoti. Il pranzo in San Petronio, le critiche e la risposta di Zuppi. Le cooperative e la carezza in attesa del Papa. E poi ma il centrodestra va all'attacco. Tristi quei selfie in via Mattei. Ma non siamo d'accordo. Credo che veramente ha ragione il prefetto Piantedosi. L'avevamo sottolineato subito anche noi. La lunga diretta televisiva della visita del Papa a Bologna. Quando appunto è arrivato lì al Lab. E quello che c'è stato è stata una vera possibilità di fare entrare le telecamere. Come sapete telecamere televisive dentro al Lab non si possono portare. Ma anche tutto quello che abbiamo visto, le inquadrature, queste persone. C'erano come dire mamme, papà, bambini, adulti, ragazzi. Insomma con delle storie dietro. È stato veramente un modo diverso di vedere l'Hub e le persone che sono dentro. Poi chi è delinquente è delinquente, deve essere fermato, deve essere rimpatriato. Ma su questo non sono queste le problematiche. Quelle sono persone davvero che sono venute qui a cercare un po' di speranza. Per cui devo dire molto bello e positivo. Andiamo anche a leggere le pagine dello sport. Sorpresa. C'è un perché dietro all'ottavo posto del Bologna. La difesa è diventata l'arma in più di Donadoni. Ha preso solo sette gol. E la quinta è la quinta della A. Grazie anche a un'inedita coppia di centrali. Gonzales e i Lander. Adesso si risveglia i verdi e azzurro. Rivela dobbiamo essere ambiziosi. Ventura perde Belotti un mese. Depenna balo. Ho bisogno di certezze. Venerdì c'è la Macedonia. Ricordiamo che adesso c'è la sosta di campionato. Si riprenderà per quanto riguarda il Bologna. Domenica 15 ottobre. Allo Stadio Dall'Ara ore 15. Quindi si torna a una domenica di normalità di calcio. E c'è il derby Bologna-Spal. Quindi contro Ferrara. Mancava da un bel po' di tempo. Ferrari, l'avviso di Marchionne, non voglio più fare figuracce come a Sepang. E poi si parla invece di Fortitudo. Novità Fortitudo. Fulz e Gandini rientrano. Finalmente la rosa è al completo. La settimana comincia bene. Virtus nei guai per i due gentili. Stefano è finito. K.O. Squalifica per Ale gli strascichi del K.O. Di Trento. Che ancora in pochi si spiegano. Lungo vertice a casa Milan. Bivio derby per Montella. Il tecnico a rapporto dopo il K.O. Il casalingo contro la Roma. La Roma che è andata ad espugnare San Siro. È finita 2 a 0. Andiamo adesso anche sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Inizierei subito da Avvenire che non uscendo il lunedì. Come sapete i colleghi di Avvenire non lavorano la domenica. E allora andiamo a lei quindi il loro resoconto sulla visita di Papa Francesco a Bologna. Arriva il martedì. Eccoci qui. Ecco vedete la visita di Papa Francesco a Cesena. Forte richiamo alla buona politica. Vincere il tarlo della corruzione. La visita del Papa a Bologna. Diritto a cultura, speranza e pace. L'abbraccio a ultimi migranti. E poi ancora da avvenire. Azzardo catalano. Barcellona pronta a proclamare l'indipendenza. Oggi lo sciopero generale. L'Unione Europea è con Madrid. Risposta sbagliata al problema vero. Una doppia sconfitta. Va salvato insalvabile. Poi il dramma. Davvero il dramma che si è consumato negli Stati Uniti. L'orribile strage senza un perché. 58 morti. 500 feriti a Las Vegas. Un cecchino da un albergo vicino. Dove si teneva questo concerto country. Ha cominciato a sparare colpendo le persone. Killer solitario spara su un concerto. Daesh rivendica. Ma ci sono forti dubbi che stavolta sia l'Isis che però ha subito rivendicato. Trump non disarma ma in un anno 36 mila le vittime. Questo è ancora quanto troviamo su questo suo avvenire. Ma andiamo nelle pagine interne di avvenire perché voglio anche qui leggere quello che è un po' il resoconto che ci viene offerto della giornata bolognese di Papa Francesco. Ecco qui parola pane e poveri. Bussole per il cammino. Il Papa la vita cristiana non si fa a tavolino. Avete riprodotto la scritta che il Cardinale Ercaro amava vedere sull'altare. Se condividiamo il pane del cielo come non condivideremo quello terrestre. Quello terrestre ci farà bene ricordarlo sempre. L'eocarestia al centro del nostro agire. L'evento diocesano vissuto con un cammino di preparazione. Ci siamo posti in ascolto cercando di capire le domande della gente. Caterina Dall'Olio inviata di avvenire per Bologna. Il pranzo in San Petronio non è desacralizzante. E questo appunto è sempre Caterina Dall'Olio che prende appunto un passaggio dell'intervento di Zuppi nella nostra intervista. E poi ancora Maria 107 anni dovevo essere qui in piazza. Lara ai giovani ci dà speranza per il futuro. C'è bisogno di cultura. Anche un altro inviato Gianni Cardinale di avvenire per quanto riguarda la visita del Santo Padre a Bologna. C'è bisogno di cultura, speranza e pace. Da Bologna Francesco richiama tre diritti. La Chiesa è aperta a tutti. In San Petronio a tavola con gli ultimi. Ancora Caterina Dall'Olio che scrive Maria Rosaria gli ho parlato dei miei dolori. Maria Teresa spero gli diano la mia lettera. Angelo a una persona in più a cui voler bene. Davvero molto molto bello anche lo spazio che avvenire nazionale. Giustamente doverosamente ha dedicato a Papa Francesco. Andiamo su Repubblica e qui purtroppo ci rituffiamo nella dramma. Il grande massacro americano. Repubblica nazionale. Las Vegas killer di 64 anni con 19 fucili. Con 19 fucili spara dal 32esimo piano sulla folla di un concerto. 58 morti e oltre 500 feriti. Questa aveva 19 fucili. Incredibile. Da Città del Peccato a Parco per Famiglie. Sempre da questa prima pagina. Poi l'inchiesta fra Aprilia e Latina. Marsiglia il killer in Italia fino a tre anni fa. Nella stessa zona ha vissuto anche Amri. L'orologio della nostra vita. Ecco il Nobel della perfezione. Premiati tre scienziati americani. E poi la sfida catalana ad catalana. Una alleanza farà cadere Rajoy. E poi andiamo anche sulla prima pagina del Corriere della Sera. Anche qui purtroppo la drammatica vicenda americana. Spari dall'alto, strage al concerto. Cecchino in un hotel. Almeno 58 morti e 500 feriti. L'ISIS rivendica. Ma per C ed FVI non è terrorismo. Le raffiche e la fuga. 15 minuti di orrore. La dinamica dell'attentato. Scommesse i fucili. Chi era chi? Chi era il killer. 64 anni. Il profilo di Stephen Paddock. E poi meno disoccupati tra giovani e donne. I dati dell'Istat. E poi l'Unione Europea si schiera con Madrid. Caso Catalogna oggi scatta lo sciopero. Prima pagina per il resto del Carlino quotidiano nazionale. Orrore mai visto. Massacro a Las Vegas. Un uomo bianco, 64 anni, con fucili automatici. Spara da un grattacielo sul pubblico di un concerto. 59 morti, dice il resto del Carlino. 527 feriti. L'ISIS rivendica la carneficina. È un nostro soldato convertito. Ma per l'FBI non è terrorismo. Si riapre la polemica sul tema delle armi troppo libere negli Stati Uniti. La Catalogna invoca un mediatore estero. Roma, l'Unione Europea sta con Raccoi. E poi cambia il 41 bis. Ora per i boss il carcere sarà meno duro. E poi la stagista svela in tv le avance dell'onorevole al Iene. Succede anche questo. Accoltellato per un volantino l'episodio in un condominio acere. Poi l'inchiesta con corsi truccati. Di Pietro resta ai domiciliari. Dall'arresto del Carlino pronta anche la stampa. Las Vegas massacro al concerto. Killer spara sulla folla del grattacielo. 58 morti e oltre 500 i feriti. L'ISIS rivendica. L'FBI non ci crede. Stephen Paddock, pensionato di 64 anni, ha usato 19 fucili per la più grande strage a mano armata negli Stati Uniti. Trump atto diabolico. Su questo non c'è dubbio. La sfida catalana trattiamo con l'Europa. Intervista Mass, padre dell'indipendentismo. Sciopero a Barcellona. Madrid useremo la forza della legge. La Lega si perde del labirinto dei populismi. Ancora dalla prima pagina della stampa. Ci spostiamo rapidamente anche sul giornale. Eccolo il quotidiano. Gli sciacalli dell'ISIS titola il giornale. Massacro a Las Vegas. Un pazzo spala sulla folla. Un concerto e fa 58 morti e 500 feriti. Il califato rivendica. È un nostro soldato. Verità o propaganda? Punto di domanda. E poi la grillina amica dei violenti. Con l'attico in centro a Torino. Chi è la passionaria? Il Movimento 5 Stelle è legata ai Notav. Poi autonomisti contro sovranisti. La Catalogna mette in crisi la Lega. Le monarchie baluardo degli stati. Il governo più occupati ma sono lavori precari. E poi l'Ober per la medicina agli orologiai del sonno. Stoccolma premia tre scienziati. E poi a Silvio do ancora de lei. Io azzurro solo il camice. Parla Zangrillo, il medico di Berlusconi. Queste sono le notizie che ci arrivano dalle prime pagine dei quotidiani nazionali. Ma io voglio tornare subito invece ai quotidiani locali. E allora torniamo sulle pagine del resto del carino di Bologna. Rituffiamoci all'interno di quelle che sono le pagine dedicate al Santo Padre. Ancora tanto spazio alla visita di Papa Francesco. Che davvero è stata una grazia straordinaria. Le parole del Papa. Lo sprone ad assumerci le nostre responsabilità. Qui ancora le pagine del resto del carino di Bologna. Le pagine interne. A parlare Rita Ghedini, presidente di Lega Coppe. Le cose da fare e le priorità. Dice Mondi come il nostro devono essere in grado di evolversi. Due sono i temi principali. Trovare lavoro ai giovani e a tutti quelli che lo hanno perso. Dalla Pontefice un invito a riconoscere i tanti errori del sistema. Levorato, numero uno di Mano Tencoppe. Le mancanze da ricordare. Scrive e dice Levorato. È stata pagata a caro prezzo l'autoreferenzialità dei dirigenti. Non vorrei che le stesse persone ora volessero appropriarsi di quanto ha detto Bergoglio. Bologna non si senta pagata. Qui interviene anche l'arcivescovo di Bologna, Mons. Matteo Zuppi nell'intervista a Massimo Selliri. La giornata di gioia con il Santo Padre. Essere consapevoli di quello che abbiamo ci indica anche la responsabilità di non dissipare tutto. La visita pastorale. Allora, che seme lascia questa visita? A tanti con due sottolineature costanti. La gioia e la speranza. La gioia di sapere stare insieme. Di gustare la gioia di poterlo fare. La gioia dell'Eucaristia che è un rendimento di grazia. Ed essendo noi nella fase conclusiva del nostro congresso eucaristico non si può dire grazie senza gioia. E capire quanto abbiamo. Dopo tutti questi complimenti Bologna si deve sentire appagata. Esattamente il contrario. Sarebbe esattamente quello che Papa Francesco non vuole. Renderci consapevoli ci indica anche una responsabilità. E poi ancora la visita è stata molto sobria eppure coinvolgente. Come lo spiega? Perché è stato un grande momento di chiesa. Di consapevolezza della città. Di gioia della città. Ma anche di chiesa. Molti Vescovi mi hanno scritto sottolineando lo spirito di comunione. È stata una festa di chiesa. Eppure l'immagine dello stadio, anche così raccolta nonostante le dimensioni, ci ha aiutato a capire la straordinarietà della vita di tutti i giorni. Davvero parole molto belle quelle che l'Arcivescovo di Bologna ha voluto dedicare. Critelli è stato coraggioso. Levorato ha detto qualcosa di vero. Certe persone stanno a cavallo tra Coppa e PD e si occupano molto anche del partito. Insomma qui ci sono sempre un po' mischiate queste diverse informazioni. Allora andiamo con le pagine del resto del Carlino a leggere anche il passaggio che riguarda il congresso del PD. Una poltrona per tre. Su Facebook si bisticcia sul confronto. La mappa delle zone di influenza. Quasi 16 mila di tessere totali. Merola l'ha rinnovata. Controlli a Galvani, Murri e Mazzini. Controlli sulle nuove tessere sospette nei circoli Murri, Galvani e Mazzini. Dopo le segnalazioni alla commissione dei segretari. Il segretario uscente è sorretto dai numeri. Critelli, lo sfidante che punta al partito utile. Luca Rizzonervo, contenuti e temi. La grande scommessa per Giorgio Licciardello. Mazzanti, Claudio Mazzanti, ho firmato per Luca. Mi ritrovo nelle sue idee. Mazzanti capogruppo in comune. Basta polemiche assurde. Voto sulla fiera. Sono uscito per non creare problemi ma non c'è incompatibilità. E poi c'è Bersani che sferza un po' i democratici. Dice toni altissimi ma bassi contenuti. L'ex segretario nazionale sotto le due torri per la sede del suo nuovo partito. Quindi vanno avanti e crescono con il nuovo partito. Andiamo sulle pagine. Anche ecco qui il Papa ha dato dignità all'Hub. Questo è il Corriere di Bologna. Eccolo qui. Andiamo subito nelle pagine interne. Il prefetto è le otto ore con Bergoglio. Dicevamo prima. Andiamo a leggere questa intervista affidata a Gianluca Rotondi. Il prefetto qual è il suo bilancio finale? Gli chiede il giornalista del Corriere. Il prefetto Piantedosi dice estremamente positivo perché quando tutto fila liscio non può che essere tale. C'è stata un'organizzazione meticolosa da parte di tante componenti che sono state raccordate tra loro. La curia in primis. Quando conovimo il signor Zuppi fu la prima cosa di cui mi parlò. Mi preannunciò questo impegno e questa preoccupazione della visita del Pontefici. Bisogna poi dare atto al Comune del grande lavoro fatto perché ha messo in campo la maggior parte delle risorse umane e logistiche. Alcuni hanno però lamentato poche occasioni in cui il Papa è stato a contatto con i cittadini lungo il percorso. L'abbiamo convenuto con la curia, i tecnici del Vaticano, ma il Papa si sarebbe potuto fermare in qualsiasi momento. Era un percorso molto lungo, si è potuto sembrare veloce e poco dedicato alle soste. È stato anche e soprattutto per conciliare le varie tappe con l'esigenza di finire ad una certa ora. Devo dire che il Papa era partito da Cesena la mattina alle 8, per cui effettivamente è stato un impegno davvero notevole e straordinario. Ci fermiamo, è arrivato il momento di fare il nostro break pubblicitario. Tra poco nuovamente insieme Nettuno TV, canale 99, digitale terrestre, Nettuno TV, punto TV per chi ci segue anche in streaming. C'è la pubblicità, tra poco torneremo insieme, tornando sempre sulle pagine dei quotidiani di Bologna. State con noi! Con YouTube e i nostri Young Tutor, gestire il conto diventa un gioco per risparmiare. Emil Banca YouTube, conto a canone azzerabile e servizi dedicati per under 35. Welk, Home, GSG, l'industria di arredamento produttore di camere, soggiorni e cameretti a Bologna, è GSG Store. Lo store monomarca dove troverai uno staff specializzato in soluzioni tutte su misura. Anche fuori standard, direttamente dalla fabbrica, con colori personalizzati, preventivi e sopralluoghi gratuiti, qualità e risparmio. Hanno trovato casa! In via Persicetana Vecchia 7, uscita 3 tangenziale, gsgbologna.it A Bologna c'è la balotta, ci sono i cini e i regaz, sbarbi e sbarbina, gli zanari e i maragli. E poi ci sono gli umarel e le sdaure. A Bologna si chiama il ciappinaro, o il fontaniere. A Bologna si dice sorbole e buonale. Brisa Farlese Eurovideo da oltre 30 anni recupera, conserva e digitalizza i tuoi momenti più belli, per condividerli di generazione in generazione. Pellicole 8 e Super 8, diapositive, negativi, foto, videocassette di ogni formato e tipo, sia amatoriale che professionale. Non perdere i tuoi ricordi. Grazie a Bologna.it Maresca tutti i giorni, secondo ricetta originale. Provala nei migliori negozi della tua città. Villani Saluni, arte di famiglia dal 1886. Dal 1957 a Bologna, Fiat si dice Maresca e Fiorentino. La concessionaria di riferimento Fiat della città, nata dalla passione per le quattro ruote made in Italy. Veicoli Fiat, Fiat Professional, Abarth, le strepitose occasioni del Mirafiori Outlet con usato e chilometro zero garantiti, assistenza e riparazioni. Maresca e Fiorentino. E a Bologna, Borgo Panigale, via Marco Emilio Lepido 6. E a Bologna, Borgo Panigale, via Marco Emilio Lepido 6. Biologico non è una moda o una bella etichetta. Per noi di Granarolo, Biologico è una promessa da mantenere ogni giorno. Una promessa a te, che vuoi cose buone e fai attenzione alla loro origine. Una promessa alle nostre mucche, che vanno rispettate, perché così fanno bene il latte, le mozzarella, lo stracchino, lo yogurt. Scopri tutta la linea Granarolo Biologico, solo latte italiano della nostra filiera. Vuoi far crescere la tua attività? La tua pubblicità su Nettuno TV e Radio Nettuno ti consentirà di far conoscere il tuo prodotto. Contatta i consulenti Speed allo 051 60 33 851 o 051 60 33 848. Oppure chiedi informazioni via mail a spe.bo.chiocciolaspeweb.it. Abbiamo una soluzione per ogni tua esigenza. Speed, diamo spazio alla tua comunicazione. 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 Nel cuore di Bologna, nella storica location di via 4 Novembre 12, ovvero negli spazi del negozio su tre piani, che dal 1905 porta le insegne della bottega di tessuti pasquini, c'è adesso pasta car ristorante. Riscopri le tradizioni della buona cucina bolognese. Gusta la pasta fatta a regola d'arte nelle sale di un palazzo d'epoca, con vista mozzafiato sul centro di Bologna. Pasto veloce, leggero, non dispendioso, ma di grande qualità e con un servizio impeccabile, curato da una persona sempre in sala a disposizione. La pasta è l'ingrediente più tradizionale della nostra cucina. Perfetta e geniale nella sua semplicità. È fatta unendo semola e acqua. È in grado di reincarnarsi ogni giorno in mille formati diversi e innumerevoli condimenti. Adesso pasta offre un'ampia scelta di primi in formati small, medium e large, e solo la sera anche 5 secondi piatti della cucina tipica bolognese e nazionale. Adesso pasta car ristorante. In via 4 Novembre 12 nel cuore di Bologna. Per prenotazioni 051 22 00 62 www.adessopasta.it Buongiorno, buongiorno, bentornati, bentornati i telespettatori di Nettuno TV, canale 99, digitale terrestre, bentornati a chi ci segue in streaming, Nettuno TV.tv. Sono Francesco Spada in questo martedì 3 ottobre 2017. Domani la festa del Patrono di Bologna, San Petronio. Una giornata festiva, una giornata molto molto ricca. Nel pomeriggio la festa in Piazza Maggiore, con momenti belli di festa, la Santa Messa alle 17 presunta dall'Arcivescovo di Bologna, e poi a seguire il momento dello spettacolo in piazza. Alle 20 e 30 ci sarà l'Antoniano che festeggia anche i suoi anni e che sarà tutto uno spettacolo, tutto rigorosamente in diretta esclusiva su Nettuno TV, a partire dalle 16 e 50. Andiamo adesso, torniamo sulle pagine del resto del carino di Bologna. Il giudice conferma gli arresti. Di Pietro non si è ravveduto. Il magistrato di Firenze è sui domiciliari del professore universitario di Bologna. Molti gravi indizi di colpevolezza, sentiti Carinci e Tassani, estranei fatti, vogliamo tornare dagli studenti. Andiamo nelle pagine interne che raccontano questa vicenda. Di Pietro resta ai domiciliari, questa è la scelta del giudice. non è pentito ed è ancora pericoloso. Adriano Di Pietro, 72 anni, docente a titolo gratuito a giurisprudenza. Gare pilotate, il professore mantiene amicizie e influenze anche se è in pensione. Sospesi per un anno, interrogati Carinci e Tassani. Noi estranei fatti, ecco i dialoghi che ci scagionano. I prossimi passi, molti degli indagati faranno ricorso al riesame per avere la revoca delle misure. La procura è reato e corruzione nell'ipotesi dello scambio di favori tra baroni. Salviamo le nostre università. Per i concorsi non bastano le regole. Interviene Capano, favorire comportamenti virtuosi. Il professor Gilberto Capano, da Sistema da Rivedere, gli accademici hanno continuato a guardare a logiche di potere interno. Questa è ancora la pagina dedicata a questa vicenda dal resto del Carlino di Bologna. Andiamo però avanti, continuiamo a sfogliare il quotidiano di Bologna. C'è un altro tema, ecco qui, estate 2017, l'autunno caldo. Estate 2017, 3 gradi sopra la media. L'AFA durerà per i prossimi 30 anni, le proiezioni dell'ARPA e sui cambiamenti climatici in regione. Però insomma adesso poi vedremo, arrivando al punto, l'eterna primavera delle zanzare, sono tornate con le piogge. E poi ancora molti malati, ecco qui, attenzione, molte persone in questo momento con influenza, molti malati, ma non è influenza, quindi malati, raffreddori, tosse, mal di gola. Però gli esperti, in questo caso Paolo Pandolfi, direttore della Sanità pubblica, dice che non si tratta di influenza, il virus però si diffonderà con l'arrivo del freddo. Pandolfi dell'OSL, vaccinazioni, previsti premi per i reparti al top. 4 mila le persone colpite ogni settimana dalle sindrome parainfluenzali in regione, quindi non avete l'influenza ma avete la parainfluenza. 214 mila è il numero degli over 65 nel territorio dell'OSL, vaccinazione consigliata. Il debutto, un team itinerante andrà al Maggiore e al Bellaria per convincere i dipendenti, questo è ancora il tema. E poi sempre da questa pagina cerchiamo un po' qualche particolare, visto che sono tante le persone in questo momento che stanno cercando di capire che cos'è, non hanno la febbre, non è un'influenza, allora, e andiamo a leggere, dice quando è attesa l'influenza, chiede Donatella Barbetta a Pandolfi, dipenderà dalle condizioni meteo e dall'arrivo del virus, monitorato da un sistema di sorveglianza nazionale. Se le temperature autunnali saranno rigide, allora sarà più probabile la diffusione dell'influenza. La campagna vaccinale, qui dice, però volevo capire un attimo come si curano, dice che questi sbalzi di temperatura hanno già messo a letto un bel numero di persone, dobbiamo preoccuparci in vista dell'arrivo dell'influenza a chi le donatella Barbetta, risponde Pandolfi, no, perché si tratta di sindromi parainfluenzali dovute a oltre 250 virus che si trasmettono per via aerea attraverso le goccioline di saliva. Sono forme che hanno colpito in questo periodo circa 60 mila persone a settimana in tutta Italia, più o meno 4 mila casi in regione a settimana. Per evitare di diffondere il contagio bisogna coprirsi la bocca quando si starnutisce e poi lavarsi bene le mani, però diciamo, questo è un consiglio molto utile, però diciamo che mettersi la mano davanti alla bocca quando uno deve starnutire è sempre cosa gradita, specie per i vicini. Comunque questa è una cosa, quindi attenzione, non avete l'influenza, avete la parainfluenza. Ci sono la bellezza di 250 virus presenti. Andiamo sulle pagine adesso del resto di Repubblica di Bologna, c'era l'intervento di Prodi e il lascito del Papa, a titolo Il Quotidiano, un messaggio riformatore anche per i non credenti. Il professore ha seguito l'intera giornata bolognese di Papa Francesco, l'elogio di questa terra, un invito alla speranza e alla solidarietà. E poi ancora l'incontro appunto con il Santo Padre, poi c'è la lettera di Bolognesi che ha potuto portare il proprio saluto insieme anche alla senatrice Bonfietti in Piazza Maggiore dopo l'Angelus, al Papa, c'era anche la moglie di Marco Biagi, che è stata Marina Biagi, che appunto è stata attesa e accolta sul Sagrato di San Petronio per il baciamano al termine dell'Angelus. E poi ancora, sempre da queste pagine di Repubblica, c'è l'intervento di Turrini sul tema del mondo Coppe, le porte girevoli, così come ha lanciato Critelli, dice le porte girevoli più a senso unico, ma ora tra PD e Coppe c'è poco confronto. Turrini di Alleanza Coppe 3.0 è la scoperta dell'acqua calda, la politica si dimostri autonoma, perché lui dice che è una politica che bussa sempre probabilmente alle nostre porte e non viceversa. Sono più amareggiato che irritato, ma la fase è questa, gli iscritti poi decideranno, sul caso Idice Isabella Conti sbandiera una sconfitta in tribunale come una vittoria. E poi ancora il segretario, Critelli l'ho visto tre volte al massimo, ma chiunque vincerà spero si misuri sulle idee. Turrini di Alleanza 3.0 dice appunto è la scoperta dell'acqua calda questo tema. Repubblica poi ci riporta sui candidati, i candidati PD trovano le firme ma è subito lite sul confronto a tre, Critelli, Licciardello e Rizzo in gara e Mazzanti sceglie l'ex assessore. E poi ancora Bersani a gamba tesa sul dibattito dei temi, toni alti, livello basso e questo è il Bersani che è venuto ieri ad inaugurare la nuova sede del suo movimento costituito con D'Alema e appunto anche a Bologna. Poi Andrangheta, Femia ci riprova, fatemi uscire dal carcere, il pentito calabrese passa all'incasso e chiede i benefici per i collaboratori, il boss è stato condannato a 26 anni in primo grado al processo Black Monkey. Questa è Monkey, scusate, questa è la pagina di Repubblica. Subito pronto il Corriere di Bologna, le tre P, pane e parola ai poveri e le altre eredità di Francesco, questo è quanto appunto il Papa ha sottolineato. E poi c'è anche la bella testimonianza del volontario che l'ha servito a tavola in San Petronio, ha parlato con tutti, Damiano maestro e tifoso del Bologna, al tavolo del Pontefice, volevo chiedergli di Palassio. È Fernando Pellerano che firma questo articolo dove c'è appunto il racconto. Papa Francesco ha gradito molto la cucina bolognese, ha mangiato tutto, non ha lasciato niente nel piatto, ebbene sì, fa la scarpetta anche lui. Il giorno dopo ecco il pranzo del Pontefice raccontato da chi l'ha servito al tavolo, in questo caso è Damiano Matteucci, 28enne bolognese, scelto in quanto più giovane di tutti tra i 120 camerieri selezionati per servire il pranzo con i poveri in San Petronio. Quando domenica mattina in Piazza Galvani, durante l'ultima riunione, me l'hanno detto, non ci volevo credere, ero in estasi, per me era già un sogno essere lì con lui, altri tre camerieri, due estratti a sorte, uno con i dadi e uno premiato per una storia personale, dato che il tavolo di Francesco, preparato il sabato con acqua, pane e piattino di uva e prugna, era il più grande con quasi 20 coperti. Questo insomma è il racconto e la testimonianza, davvero una grande emozione all'interno anche in San Petronio. Torniamo sulle pagine, cioè restiamo sulle pagine del Corriere di Vorogna, ma torniamo alla politica. Congresso PD ai blocchi di partenza, tre in corsa, i candidati litigano già sulla data del confronto, Critelli, Ricciardello e Rizzo Nerva hanno consegnato le firme, Mazzanti si schiera con l'ex, 22 ottobre la data in cui si concluderà il congresso nei circoli del PD per scegliere il candidato, l'ipotesi saltata, Ricciardello aveva proposto un faccia a faccia il 12 ottobre, ma non si potrà fare. Oggi la Regione vota l'autonomia, lega l'attacco, carta a straccia, sempre per quanto riguarda il tema della polemica, ma ci sono anche i centristi che cominciano a muoversi, moderati nella città di Bologna, a elezioni Casini e Galletti al lavoro, un evento in città entro fine mese, poi Casini scherza, dice volevamo Cappella Farnese, ma per noi è troppo piccola. Scenari futuri dopo le politiche, si penserà anche alle amministrative, per cui resta comunque l'ipotesi di Galletti, ma ripeto, si vota Bologna nel 2021, c'è ancora tanta acqua che deve passare sotto i ponti. La fondo dell'ex segretario, Bersani difende le coppe, qui sono fondamentali, arriva anche l'intervento di Bersani su questo tema, oggi intanto la Regione vota l'autonomia, lega all'attacco, carta a straccia, la Regione vuole nuove risorse e funzioni, ma senza strappi con Roma. Staremo un po' a vedere quello che succede. L'ite per i volantini, egiziano accoltellato, Scipione del Ferro ad aggredirlo, un 27enne bolognese che si è costituito, non volevo li mettesse, questa è stata l'unica risposta, poi il Corriere di Bologna dedica spazio anche alla vicenda universitaria, un piccolissimo spazio, Di Pietro resta agli arresti, nessun ravvedimento, il GIP può ancora delinquere. E poi ancora, l'osservatorio Mense scrive al Comune troppe variazioni nei menu, e poi la scuola arriva anche, siamo sempre sul Corriere di Bologna, scuola, petizione contro il nuovo calendario, già 400 adesioni di genitori, contrario allo slittamento in avanti, pro turismo, la Regione nulla e ancora deciso. Torniamo sulle pagine del resto del Carlino di Bologna, eccoci, andiamo nelle pagine interne, vi voglio portare anche nelle pagine della provincia, della città metropolitana, qui siamo a San Lazzaro, via Zinella, 20 furti in 6 mesi, ci rubano tutto, anche le galline, la rabbia delle nuove famiglie, viviamo nella paura. E poi sempre San Lazzaro, colpo al caffè, piazza Bracci, è sempre lo stesso ladro, i titolari dalle registrazioni video, sembra la solita persona che ha fatto la razzia a Ferragosto, quindi per dire, diciamo, torna nei luoghi dove ha già rubato. Ancora dalle pagine del resto del Carlino, approfittiamo di queste ricchissime pagine dedicate alla città metropolitana, qui andiamo in Valsamoggia, sicurezza sulle strade, Ruscigno, 11 dossi per rallentare le auto, i primi tre dissuasori già installati sulla via Bargellina. E poi andiamo a Bazzano, minori a rischio, lezione di legalità con i carabinieri, in quella di Bazzano, siamo sempre nel comune di Valsamoggia, e poi ladri alla Stanley Bet, questa zona è al buio, Casalei Chiorarabio ha del titolare, queste sono sempre le notizie che andiamo a pescare da queste zone. Ma c'era una notizia che era presente anche sulla prima pagina del resto del Carlino, eccola qui, dice scappo dalla città, Jessica la vita e le capre, San Benedetto, andiamo allora effettivamente a leggere, Jessica Giovane Aidi, io felice con le mie capre, guadagno bene e mi rilasso, San Benedetto ha 23 anni, passione di famiglia, lavoro dalle 7 alle 20, quest'anno vacanze al mare, ma solo per 4 ore, quindi lavora davvero tanto, la vendita diretta, ho cominciato a fare il formaggio, Rita Bartolomei che racconta questa storia che arriva da San Benedetto a Val di Sambro, ho cominciato a fare il formaggio, lo vendo nei mercati, sabato mattina sono a Porretta Terme, mi sto attrezzando per aprire qui, nella fattoria un punto vendita, il latte di capre è più pregiato, viene pagato 1,10 euro al litro contro i 30 centesimi di quello di Vacca, un suo mercato salutista, e poi insomma qui c'è un po' il racconto, questa storia di questa Jessica Vaccari, 23 anni, giovane e bella, professione pastore, questo è quanto ci racconta, gli alunni lasciano le aule provvisorie e tornano sui banchi delle Morandi, siamo a Camugnano, dopo due anni dal terremoto che provocò l'inagibilità del vecchio edificio scolastico, ricordo che riparte l'avventura settimana prossima di Nettuno TV Vai in Appennino con il nostro camper e saremo proprio a Camugnano e quindi nella prossima settimana saremo a Camugnano e poi ovviamente vi proporremo e vi racconteremo tutto quello che avviene, quindi riparte l'iniziativa e il progetto editoriale Nettuno TV Vai in Appennino, ci muoviamo con il camper, ricordo sempre con il supporto e con l'ausilio, con il contributo, con la collaborazione della città metropolitana, dell'unione dei comuni dell'Appennino bolognese, di Appennino slow, insomma tante realtà con cui stiamo viaggiando, Bologna Welcome, stiamo viaggiando su questo Appennino. Allora, questo è il quadro della situazione, facciamo a questo punto il nostro break pubblicitario, tra poco torneremo ancora sui quotidiani di Bologna in questa mattinata, questo martedì 3 ottobre del 2017, vigilia di San Petronio per Bologna, vigilia di San Francesco invece per il resto d'Italia, la Chiesa di Bologna celebra San Francesco il 5 di ottobre, anche se oggi, in questa giornata di vigilia, l'Arcivescolo di Bologna celebrerà la messa nella Basilica di San Francesco. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, state con noi a tra poco.